C'è chi ha scritto per una tragedia del secolo scorso che il male ha in sé anche una sua banalità. Noi più modestamente facendo questo mestiere di cronisti e di giornalisti talvolta ci banalizziamo, cerchiamo di, come possiamo dire, di assuefarci in maniera cinica al male che il terrorismo ha fatto in Europa negli ultimi anni. Eppure a un certo punto uno si deve dare una svegliata e dire ma è possibile che il bene sia così banale? È possibile che non si debba reagire? È possibile che non si individui un colpevole? Non si individui una situazione che si deve combattere in tutti i modi senza usare mezzi termini? La banalità del male nel secolo scorso è stato combattuto con delle guerre, con degli eroi e con delle vittime. Le vittime qua ce le abbiamo. Le vittime oggi, da oggi, hanno fatto un passo avanti. Un passo avanti nel terrore, nel buco, nel baratro è perché quella vittima, queste vittime che state vedendo, sono vittime non solo innocenti, come è facile dire, tutti sono innocenti in realtà quando sono vittime di una furia barbarica, ma sono vittime deliberatamente giovani, vittime che non possono reagire, vittime che non conoscono neanche la banalità del male. E sono state individuate in quel luogo, in quel concerto, con quella cantante, esattamente per questa caratteristica, di essere giovani vittime di una civiltà che evidentemente qualcuno non accetta, la civiltà della musica, dei giovani, della speranza, del nostro futuro e dei nostri diritti e della nostra libertà. Far finta che non ci sia una guerra di civiltà e che non ci sia una guerra vera e propria in questi giorni, vuol dire negare la banalità del male e soprattutto il male che c'è.